Buonasera a tutti, sono Mirti De Gavelli del Museo Civico del Risorgimento di Bologna e anche in questa giornata di fine anno sono qui con voi a cercare di fare una piccola chiacchierata su un tema storico di quelli che da diverso tempo oramai inseriamo nella nostra serie la storia a porte chiuse, una serie di pillole di storia o di storia dell'arte che poi potete rivedere sul nostro canale youtube di storia e memoria di Bologna. Vi anticipo anche che continuiamo anche nelle prossime, in tutti i prossimi martedì, il martedì 4 gennaio ci sarà il nostro caro amico Carlo Pelagalli che ci parlerà degli odonimi delle strade di Bologna, come nacquero i vecchi nomi delle strade bolognesi e l'11 gennaio, martedì 11 gennaio ci sarà invece Andrea Spicciarelli che ci racconterà una storia piuttosto originale e sicuramente poco conosciuta relativa a Bologna e a una scuola che un gruppo di rivoluzionari russi organizzò proprio a Bologna nel 1910-1911, una storia particolarissima che è stata di recente anche utilizzata dal gruppo Wuming per uno dei loro romanzi racconti. Io invece questa sera per parlare di qualcosa di leggero vorrei raccontarvi qualcosa a proposito dei gusti alimentari di due dei nostri padri della patria, dei nostri padri del risorgimento, i nostri due Giuseppe nazionali Garibaldi e Mazzini naturalmente. Sono temi che sono già stati affrontati, ci sono libri che ne parlano più o meno però è sempre carino tirare fuori qualche cosa e vi darò anche una ricetta finale. Cominciamo con Garibaldi. Dei gusti alimentari di Garibaldi si è parlato spesso, era un uomo semplice di gusti semplici, questo è quello che viene sempre detto, che viene raccontato nelle memorie dei suoi soldati, dei suoi uomini, dei suoi ufficiali, di coloro che l'hanno conosciuto e che quindi tutti quanti concordano appunto nel riconoscere questa cosa. Io partirei con leggervi qualche riga da una storia piuttosto, da un volume molto molto interessante che pubblichammo noi come Museo del Risorgimento alcuni anni fa ed è un memoriale di Giuseppe Nuvolari che era uno degli ufficiali Garibaldini che come tanti di questi ufficiali passò qualche mese a Caprera dopo negli anni sessanta. Giunto a Caprera lo stesso giorno il generale diede a ognuno di noi arrivati mansioni di quello che dovevano fare. È sgrammaticatissimo. Io, quella di tener pulite le armi e la caccia, schiaffine menotti la custodia del canotto, mezzo marcio, gusmaroli il cuoco fornaio, cameriere e lavapiatti, ce n'erano tanto pochi, fruscianti custodire il poco coltivato, far legna per la casa e il forno e va avanti così. Si mangiava caccia e pesca, carne non ne vidi mai, carne allora intendevano la carne di buoi mentre la caccia era appunto gli uccelli o le lepri o quello che potevano prendere col fucile andando in giro per l'isola. Ma quello che disturbava tutti, meno menotti e il generale, menotti era il figlio più grande del generale Garibaldi, era la mancanza assoluta del vino e caffè, questo riservato al solo generale. A tavola, quando beveva, diceva sempre, com'è buona quest'acqua, è eccellente, non è vero? Si immagini noi con che coraggio si diceva, è vero generale, è buonissima. Ho veduto famiglie povere, ma quella di Capriera le superava tutte in quell'epoca, anche perché quante volte vi era caccia e pesca in abbondanza, ma mancava l'olio o lo strutto per cuocerle e poi va avanti raccontando così. Anche altri raccontano di Capriera e della tavola di Capriera che era sempre piena di persone. Garibaldi aveva sempre molti ospiti invitati o autoinvitati, ma il servizio era sempre lo stesso. Per esempio, Giuseppe Cesare Abba, uno dei famosi ufficiali garibaldini che scrive memorie, in uno dei suoi libretti che si intitola Cose garibaldine, stampato nel 1907, a un certo punto dice, quando fu detto che il desinare era pronto, il generale si alzò e senza cerimonie fece passare tutti gli ospiti nella sala da pranzo. Una modesta sala davvero, arredata come quella di un semplicissimo campagnolo. Mensa contesa su una tela incerata, quindi invece della tovaglia di pizzo, di fiandra o che so io, la tela incerata, un po' alla marinara. Tanti posti quanti erano gli ospiti, su da ogni piatto un pane casalingo, posate di metallo bianco, molte bottiglie d'acqua. Venne subito servita una gran minestra alla genovese, poi un piatto di baccalà, poi una fetta di melone. E continua così. E qui vengono fuori alcuni dei piatti che in tantissime memorie, in tantissimi racconti, si dice appunto fossero quelli preferiti dal generale Garibaldi, che sappiamo era Ligure, Ligure, Mizzardo poi insomma, diciamo della costiera franco Ligure. E quindi amava questi minestroni alla genovese, che erano fatti di tantissime verdure dell'orto, quello che dava l'orto, condite con il pesto alla genovese, completate con il pesto alla genovese. baccalà e stoccafisso, quindi memorie di quando navigava, quindi il pesce secco che veniva ammollato e poi utilizzato. Verdure appunto in tutti i modi. Garibaldi si faceva un vanto di essere agricoltore, apicultore. Qualche commentatore, qualcuno che lo vide al lavoro diceva che sì, insomma, se la cavava abbastanza, ma non erano proprio i suoi mestieri. Qualcun altro ne parlava in modo più encomiastico, però insomma diciamo che anche con l'aiuto di un po' delle tante persone che giravano per Caprera, l'orto, la vigna dell'isola producevano. Ma la cosa interessante e più familiare è leggere questo libricino, mio padre, ricordi di Clelia Garibaldi. Clelia Garibaldi era la ultima figlia, la figlia più piccola di Garibaldi, quella non figlia di Anita, figlia dell'ultima moglie della Francesca Armosino, della donna che con lui divise poi gli ultimi lunghi anni della sua vita a Caprera. Clelia era nata nel 1867 quando il babbo aveva già 60 anni e visse quindi sull'isola fino all'età di 15 anni con questo padre così importante e così ingombrante. Ma in queste sue memorie che vennero stampate appunto molto avanti degli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché Clelia morì nel 1959, aveva oltre 90 anni, viene raccontato un po' com'era la vita quotidiana di questo babbo anziano con bambini piccoli su un'isola così isolata e così defilata nel Mediterraneo. Ed è appunto divertente leggere come Clelia racconti appunto i piatti che lui prediligeva, il minestrone alla Genovese con il pesto come abbiamo già visto, lo stoccafisso, se si poteva pesce che veniva pescato, anche i bambini avevano imparato a pescare in qualche modo, oppure i molluschi, insomma quello che la natura lì intorno offriva, ricci di mare, gamberetti, ma in modo particolare fave, pecorino, pane, olive in salamoia, quindi cose molto molto semplici. Vino non ne girava come abbiamo già visto anche nelle memorie dei nuvolari, il caffè quando era possibile c'era perché era una delle bevande da lui preferite e l'altra cosa che gli piaceva molto era il mate, cioè questa bevanda sudamericana che si era quindi portato come memoria dal Sud America e che veniva preparata un po' come una sorta di tè dentro una zucca, una zucca naturale e bevuta con una cannuccia particolare. Tutti conosciamo aneddoti su grandi banchetti preparati in onore del generale quando visitava città eccetera, ma per esempio una cosa molto simpatica è un racconto di quando raggiunge una città forse Pavia, una città lombarda per uno di questi grandi convegni, era già abbastanza anziano così, arriva in ritardo perché gli impegni erano tanti, questo enorme banchetto aveva già mandato a dire cominciate pure a mangiare non c'è problema, avevano preparato di tutto per fare bella figura e quando il generale arriva si accontenta di una piatto di minestra, di zuppa dopodiché dice no no basta, io sono già a posto così. Quindi a testimonianza di tutta la sua frugalità. ricordiamo, ricordo che in occasione del viaggio di Garibaldi in Inghilterra nel 1864 gli vennero dedicati da un forno, da un fornaio locale londinese dei biscotti particolari, questi biscotti Garibaldi di cui vi ho anche parlato l'anno scorso in un'altra diretta e li ho fatti anche vedere perché allora li avevo e biscotti che sono delle sorte di gallette dolci che richiamavano le gallette dei marinai che dove si dovevano conservare a lungo con dentro però tanta uvetta passa. Ecco questo biscotto, biscotto Garibaldi che ancora oggi si produce in Inghilterra è legato appunto indissolubilmente al nome di questo nostro padre della patria. Vi faccio vedere poi passiamo all'altro padre della patria, questo interessante libretto ricette di cucina che Garibaldi a tavola edito da Belforte, un editore di Livorno alcuni anni fa, nel 2007, nel quale è pubblicato il quaderno delle ricette di casa Garibaldi. Fu sempre Clelia, la figlia Clelia, a conservarlo e fu una sorta di amica dama di compagnia di Clelia Garibaldi che si chiamava anche lei Clelia, ma Clelia Gonella, era una livornese, che lo diede alle stampe sempre dopo la seconda guerra mondiale e da questo vi leggo una semplicissima ricetta prima di passare appunto all'altro nostro personaggio. La pizza Ladier, che cos'era questa pizza Ladier? È una sorta di pizza nizzarda, una focaccia pizza e così è descritta nel quaderno di casa Garibaldi, proprio a mano. È una pizza specialità nizzarda, dopo aver steso la pasta nella teglia come si fa per la pizza napoletana, la si ricopre con cipolla tagliata a fettine sottili e preventivamente cotta con un po' d'olio per circa 10 minuti. Con la cipolla si mettono a raggera ben disposti filetti di acciughe salate ben pulite e olive in salamoia. Cuocere in forno come le altre pizze per mezz'ora circa. Se vi volete togliere lo sfizio di provarla, io l'ho fatto, è veramente molto buona e si può provare a mangiare quello che il generale Garibaldi gradiva di più. E passiamo adesso a Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini è un personaggio totalmente diverso come tutti sappiamo. Fin da giovanissimo, da molto giovane, nel 1831, quindi aveva 26-27 anni, insomma fu costretto a lasciare Genova, lasciare la sua città d'origine e fuggire un po' in giro per l'Europa dove poi visse praticamente sempre durante la sua vita. Mazzini è sempre visto come un personaggio un po' cupo, un po' tetro, così a passare vi ricordo che l'anno prossimo, il 2022, sarà il 150esimo anniversario della morte di Mazzini, il 10 marzo, e come Museo del Risorgimento ne parleremo, ne parleremo e parleremo di tutta una serie di suoi aspetti, anche non strettamente legati al mondo politico, perché, come ci piace sempre ricordare, queste persone erano sì rivoluzionari, soldati, eccetera, ma avevano anche una vita normale. Come Garibaldi coltivava l'orto, aveva i figli, andava a pesca, Mazzini suonava la chitarra, scriveva di musica, scriveva di arte, scriveva di letteratura, insomma era un personaggio ovviamente poliedrico e molto interessante. Dove si trovano tracce dei gusti alimentari di Mazzini? Nelle sue lettere, nel suo ricchissimo epistolario, ogni tanto si trova qualche accenno. Anche lui era un ligure, era genovese, come tutti sappiamo, e quindi ritorna questo minestrone alla genovese condito con il pesto. Quindi evidentemente una impronta che i liguri si portano dietro anche in giro per il mondo. E nelle lettere, soprattutto nelle lettere alla madre Maria Drago, Mazzini parla spesso, non spessissimo, ma insomma, sovente parla di di quello che mangiava, di quello che gli toccava mangiare essendo emigrato in Svizzera, in Inghilterra. Quando parlava dell'Inghilterra, insomma, storceva un po' la bocca, diceva che magari si ritrovava con gli emigrati italiani e cercavano di cucinare un po' all'italiana, anche se di varie zone, di varie provenienze, ma cercavano di ritrovare i gusti di casa loro. Anche Mazzini amava molto il caffè, fumava anche lui tantissimo il sigaro. Delle cose inglesi, dei piatti inglesi che cita spesso, l'unica cosa che dice che gli piaceva e di cui era diventato goloso era il plum pudding, questo piatto inglese delle festività natalizie, fra l'altro, di cui mangiava spesso, quando gli capitava, abbondanti porzioni. Nelle sue lettere, scrivendo alla madre appunto, ricorda, parla appunto di questi piatti genovesi che non riesce più a riprodurre un minestrone, riusciva anche a farlo, ma per esempio ricorda spesso i biscotti del lagazzo, come li chiama lui. Nei nostri supermercati, nei nostri negozi sono ancora in commercio i biscotti del lagaccio, che sono una produzione tipica ligure. I maccheroni che gli italiani cercavano di fare appunto condendoli il più possibile all'italiana, le trippe che facevano inorridire gli inglesi e di cui loro erano invece ghiottissimi. Si fa spedire dalla madre stampi per fare i ravioli, per fare i corsetti che sono una specie di pasta particolare. Parla spesso di frutta, si fa mandare delle piante in modo da poter provare a riprodurle. C'è tutto questo traffico di avanti e indietro per l'Europa di cose che vengono spedite. Quello che si può spedire, la madre lo spedisce. Quello che è a lunga conservazione, che non si degrada ovviamente con un viaggio di settimane. e per chiudere perché sono già abbastanza, ho già parlato abbastanza, vi vorrei però dare una ricetta e cioè una ricetta che è conosciuta e a Genova è anche prodotta e venduta nelle pasticcerie ed è conosciuta come torta Mazzini. Questa torta Mazzini è una torta di mandorle, limone, uova che viene fatta e cotta su una base di pasta sfoglia, molto buona, per la verità veramente molto buona. La ricetta la impara in Svizzera nel 1835 e c'è questa lettera nell'epistolario con la mamma datata 28 dicembre, proprio oggi 28 dicembre 1835 e Giudeppe Mazzini scrive prima di dimenticarmi voglio attenere la mia promessa e soddisfare un mio capriccio. Eccovi la ricetta di quel dolce che vorrei faceste e provaste perché a me piace assai. Traduco alla meglio perché di cose di cucina non mi intendo. Ciò che mi dice una delle ragazze in cattivo francese, evidentemente una cameriera della Rocanda dove andava a mangiare. Pelate e state fine fine tre once di mandorle, tre once di zucchero, friggato prima a un limone, pestato finissimo. Prendete il succo del limone, poi due gialli d'uovo, mescolate tutto questo e muovete. Sbattete il tutto per alcuni minuti, poi sbattete i due bianchi d'uovo quanto potete. A neige dice essa, come la neve. Cacciate anche questo nel gran miscuglio e tornate a mescolare. Ungete una tourtière, cioè un testo da torte, con butirro fresco. Coprite il fondo della tourtière con pasta sfogliata, ponete il miscuglio sul testo, su questo strato di pasta sfogliata spargete dello zucchero fino e fate cuocere il tutto al forno. Avete inteso? Dio lo sa, mi direte poi i risultati. Intanto ridete. Ecco, se volete cercare la torta Mazzini, troverete in internet tante versioni e provatela, è veramente buona. E con queste ricette di casa Mazzini e di casa Garibaldi, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi saluto, ricordandovi appunto agli appuntamenti dei prossimi martedì e augurandovi buon anno. Grazie a tutti e buona serata.